Buonasera, per questo è un time di oggi da 0766news.it, siamo qua Elena D'Ambrosio che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle, il capogruppo che ha il comando di questa amministrazione comunale, quindi piccolo resoconto di questi 18 mesi che oramai ci siamo, quindi di attività politica, credo che sia la prima volta. Salve a tutti, sì, è un ruolo di capogruppo, non vuol dire questo che io sia più importante degli altri, bensì sono con lei che porta la voce nella conferenza dei capigruppo, però sempre coordinandomi con i miei colleghi. La voce del coro è una, siamo 16, ci coordiniamo prima nelle riunioni di maggioranza e poi in conferenza di capigruppo si delinea la linea politica. Questi 18 mesi sono stati molto intensi, è un'esperienza nuova per tutti quanti, molto interessante, molta responsabilità, però ci sta dando tantissime soddisfazioni. Voglio ricordare che comunque vincendo le elezioni siamo l'amministrazione di tutti, quindi di tutti i cittadini e non solo dei cittadini che hanno votato il Movimento 5 Stelle, questo lo voglio ricordare. Certo, fatto bene, invece qualche aneddoto, diciamo, come va la coabitazione con gli altri capogruppo, insomma, se andiamo dal volpone pien di bene ai capogruppi di se stesso, che può essere D'Angio o Grasso o Guerrini, soprattutto. Allora, mi hanno detto che nelle precedenti conferenze di capigruppo delle scorse amministrazioni c'era un bailam, diciamo, molto variegato perché ogni partito aveva il suo capogruppo. Adesso le riunioni sono molto ristrette perché io rappresento 16 e già prendo buona parte dei consiglieri, la maggioranza, essendo unico partito, però diciamo che con una rispettosa coabitazione nelle riunioni, devo dire che nonostante tutto le divergenze, anche a livello politico, amministrativo, riusciamo sempre a condurre delle riunioni piuttosto serene. Ogni tanto ci scontriamo, è giusto che sia così, che ci sia un dibattito politico, ma questo è... ognuno ha la sua idea e non è detto che a volte noi condividiamo la loro o a volte loro condividono la nostra. Ecco, l'ultima domanda che diciamo è quella cattiva, tanto per voci di popolo, voci voci vox popoli, come dicevano i latini, dicono che poi all'interno della maggioranza c'è qualcuno che scalpita, insomma sì, c'è l'unanimità sempre, però cominciano un po' a scalpitare. È vero, non è vero? Facciamo un po' dei gossip. Ok, è chiaro che siamo 16, quindi ognuno ha la sua testa, ha il suo ragionamento e è normale anche in una famiglia, no? Quattro persone, ognuno la pensa in maniera diversa. E noi siamo... C'è il capofamiglia che dopo diceva se fa così. Però diciamo che adesso è un po' cambiato anche in famiglia, il capofamiglia non è più il... È il dittatore, vero? Beh, però mettere insieme 16 teste non è facile, perché a parte che siamo di età diverse, quindi anche a livello di ragionamenti molto spesso andiamo ad analizzare degli aspetti, delle decisioni per cui magari c'è chi ha una linea più morbida, chi più dura, chi eccetera, eccetera. Però poi quando si esce, si esce con una linea unica e ci si adegua sempre alla maggioranza. Un segreto, un sogno segreto, voglio risolvere una cosa, ne posso fare solo una, cosa vorrebbe fare? Per civita vecchia, le dice come... È chiaro. I sogni sono veramente tanti, anche perché questa città ha bisogno veramente di rinascere da anni bui. Sicuramente la parte ambientale è quella che a me personalmente sta più a cuore, quindi cercare di rendere una città più vivibile, più verde, più aree pedonali, piste ciclabili, insomma, questo è quello che sogno io. E con questo sogno ringraziamo Elena D'Ambrosio, il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale di Civita Vecchia. Grazie. Grazie.